si chiamano beef chaplow e tristan reese è solo una coppia a tutti effetti vivono a portland e onycon e hanno raccontato il loro sogno ossia quello di avere un figlio tutto per loro sono entrambi due per l'appunto uomini in piena regola la coppia ha adottato liley e haley dalla sorella di beef che ha avuto problemi di droga nel 2011 adesso l'uomo aspetta il nuovo figlio da tristan il compagno transessuale nel 2016 avevano già provato ad avere un bimbo ma dopo sei settimane di tempo di gravidanza l'uomo aveva avuto un aborto in agroa spontanea adesso mi sembra che tutto vada in modo perfetto straordinario insomma dunque l'amore che nasce tra uomo e trans addirittura si può rimanere incinta e si può diventare generale tra uomo e transessuale grazie per l'ascolto il video termina qua un santone a presto